ciao a tutti eccoci per il nostro appuntamento quotidiano sono le 17 aspettiamo che un po di gente arrivi ormai mi sembra di essere veramente una conduttrice televisiva aspettiamo un momento che la gente arrivi siamo in diretta e qui abbiamo il peluche di gigi perché voglio dire tutti hanno il proprio peluche io ho gigi ciao fiorenza buongiorno io gigi e lui a gino gino il topolino fiorenza sei la prima aspettiamo di capire ecco isabella buongiorno buongiorno fiorenza isabella presenti aspettiamo perché abbiamo due occhietti quattro occhietti vediamo se ci salutano anche così sappiamo chi sono sapete che io bene o male cerco di aspettare ciao lucia ciao fiorenza sapete che io cerco di aspettare sempre che ci siano 67 occhietti puntualissima è vero fiorenza oggi sei stra puntuale veramente bene bene perché abbiamo un sacco di cose da raccontare un sacco di luciano ciao questa sì che è una bella che è una bella visione non che voi non lo sa non lo siate ragazzi ricordatevi sempre che io mi illumino quando vedo persone nuove e luciano è una persona con la quale ho lavorato un po ho iniziato un po con lui a leggere i racconti a distanza e quindi sono contenta tra l'altro lui insegna armonica aiutami luciano diatonica spero di non fare brutte figure claudio claudio mittino buongiorno bene siete già 7 siete già 7 e allora come 6 e 5 ma me ne siete già andati non ho ancora iniziato vabbè per chi c'è ho il piacere di iniziare con una sorpresa allora questa mattina su facebook ho letto un pezzo bellissimo peccato che l'autore non ci sia o autrice non ci sia ciao vale buongiorno peccato che non ci siano gli autori quindi con questo mio volerlo pubblicizzare spero che l'autrice si faccia o l'autore si faccia si faccia sentire è un pezzo dedicato ai nostri ragazzi che in questo periodo davvero stanno facendo una grande una grande fatica perché li stiamo chiedendo davvero un sacrificio enorme io non ho non ho figli ma ho due nipoti meravigliosi che che effettivamente stanno stanno vivendo questo momento e allora io ho letto questo pezzo questa mattina e mi è venuto subito in mente che avrei voluto cominciare così ragazze e ragazzi voi state pagando il prezzo più alto un grazie è una promessa insieme ce la faremo hashtag io resto a casa invece che in casa faremo meglio a dire in camera perché se avete più di 13 14 anni è probabile che sarà nella vostra camera che passerete la maggior parte del tempo ragazze ragazzi per non farvi diventare l'autostrada dei virus vi abbiamo imposto un letargo a primavera e voi vi state dando da fare per sostenerlo è vero inutile negarlo a voi la regola necessaria del io resto a casa pesa in modo particolare avete l'età in cui il mondo si allarga l'età in cui la casa è un albergo e adesso invece eccovi qui come tutti a sostenere queste limitazioni ragazze ragazzi è vero queste regole necessarie vi hanno tolto tutto gli amici le uscite il motorino le prime guida in macchina il gruppo e flirt l'amore appena iniziato lo sport la musica ballare le feste la gita scolastica la libertà vi abbiamo potuto restituire solo la scuola ma senza il calore dei vostri compagni e compagnie senza le confidenze le chiacchiere senza i capannelli all'intervallo senza ritrovarsi all'entrata senza lo sciamare all'uscita in cambio di una vita vera vi abbiamo restituito i social e le lezioni online e tutti i possibili usi di internet quelli che fino a pochi giorni fa noi spesso criticavamo è necessario questo limite ma non abbiamo il diritto di minimizzare lo sforzo che fate per adattarvi ogni giorno in più che passa diventa più grande allora meritate i nostri complimenti siete dei piccoli grandi eroi siete forti e se resisterete lo sarete ancora di più ben prima del tempo giusto vi abbiamo chiesto uno sforzo tremendo di autocontrollo e responsabilità e allora vi onoriamo per ogni giorno in cui vi mettete a studiare davanti ad uno schermo soli nella vostra stanza per ogni sospiro che vi esce dal cuore quando vi mancano gli amici l'amore gli abbracci lo stare insieme vicini e stretti in tantissimi vi ammiriamo per ogni volta che sopportate con pazienza le nostre tensioni di adulti le nostre incomprensioni ragazzi insieme ce la faremo insieme possiamo scampare il pericolo e noi ci impegniamo ad essere pazienti con le vostre emozioni disordinate ad essere tolleranti col vostro nervosismo perché abbiamo riconosciuto che a voi è stato chiesto di accettare la limitazione più grande forza coraggio ce la faremo tutti insieme io resto a casa ecco spero che abbiate gradito questo questo mio incipit della della trasmissione ormai mi piace chiamarla quasi quasi trasmissione un appuntamento quotidiano e spero che lo abbiate apprezzato allora andiamo a raccontare una nuova fiaba in realtà è una fiaba a episodi adesso ve la racconto allora partiamo dall'autrice l'autrice è fiorenza pistocchi abbiamo conosciuto fiorenza con la talpa coraggiosa tiglia e mi ha fatto un gran piacere che lei abbia deciso di darci la possibilità di ascoltare altre sue fiabe questa è una fiaba particolare oggi vi racconterò due episodi uno piace da matti a me ed è diciamo l'inizio no da dove tutto ha inizio e si parlerà di una persona molto particolare e di uno scrittore di fiabe allora io non andrei troppo avanti con le chiacchiere e partirei a sprombattuto a raccontarvi questa storia intanto cristiano sta guardando ciao cristiano ho visto rinaldo visto tante persone vi ringrazio adesso sarei tentata di curiosare ma poi vi faccio perdere troppo tempo poi mi saluto vi saluto alla fine d'accordo farò un ciao generale perché poi se mi dimentico qualcuno guai sto aspettando i miei bambini che secondo me tra un poco arrivano e intanto cominciamo super lupo basta non ne posso più è ora di finirla così disse quello strano tipo era tutto coperto da un mantello grigio e portava sulla testa un grosso cappello nero attesa larga gli occhiali da sole una sciarpa gialla li coprivano la faccia da sotto il mantello spuntavano due stivaloni dai grandi piedi le mani erano infilate in grossi guanti dello stesso colore della sciarpa sotto braccio portava dei libri all'apparenza molto vecchi il tipo doveva averli letti e riletti visto che le copertine erano sbiadite e alcune pagine che sporgevano dai volumi erano stropicciati e piene di macchie mi aveva chiesto un appuntamento per telefono ho bisogno di parlare con qualcuno che mi capisca lei che scrive storie per bambini potrebbe per favore ascoltarmi certamente avevo risposto ci vediamo domani alle 3 in via del bosco 6 al quarto piano quando vidi lo strano personaggio in piedi davanti a me la paura mi strinse la gola e se fosse stato un ladro o un assassino lo guardai con angoscia da basso in alto poiché la mia statura è solo di un metro e 18 inoltre mi muovo a fatica perché ho 68 anni e peso 90 chili non è nell'età che mi rende difficoltosi i movimenti perché noi scrittori di fiabe di fiabe per bambini di solito viviamo molto a lungo se le nostre storie sono belle se i bambini le apprezzano se i genitori le leggono e le raccontano ai piccini noi diventiamo sempre più forti e resistenti alle malattie fino a raggiungere età ragguardevoli mi raccomando non raccontate in giro questo fatto è un segreto che pochissimi conoscono io perciò sono ancora giovanissimo è la golosità che mi rovina mi piacciono troppo le pizze le mangio a colazione a pranzo a merenda cena e tutte le volte che mi scrivere una fiaba per bambini cioè dopo colazione prima di pranzo dopo pranzo prima della merenda dopo la merenda prima di cena dopo cena ma torniamo al mio strano ospite un po tremante gli dissi di accomodarsi sulla sedia di fronte alla mia scrivania preferì non alzarmi perché temevo che vedendo quanto ero basso e grassottello mi saltasse addosso e mi divorasse chissà perché mi venne questa idea basta non ne posso più mi ripete è ora di finirla di considerarmi sempre cattivo perfido e malvagio guardi anche lei in queste fiabe mi fanno sempre fare la figura del brutto e cattivo e mi fanno sempre fare una bruttissima fine così dicendo sbatte con malagrazia sulla scrivania i volumi che aveva portato con sé erano storie famose cappuccetto rosso il lupo i sette capretti i tre porcellini il lupo e l'agnello poi cominciò a svestirsi con preoccupazione crescente vidi emergere da sotto il cappello due orecchie a punta pelose ispide di colore grigio quando posò gli occhiali scuri gli occhi giagli e lucenti mi colpirono per la loro espressione stranamente benevola infine tolse anche la sciarpa e lasciò scoperte candide zanne scintillanti esposte in un ghigno che sembrava un sorriso era un lupo e anche pello grosso tremando come una foglia allungai la mano per stringere la zampona che il lupo mi porgeva e dalla quale aveva tolto il guanto giallo la mia mano sparì in quella morsa di peli e scricchiolò penosamente piacere sono pier giulio lupo conosciuto dai più colti studiosi come lupus in fabula cioè il lupo che si trova nelle fiabe disse con un certo orgoglio piacere mio come lei sa sono ottone libretti scrittore di fiabe favole e racconti per bambini per servirla trassi dal cassetto un pezzo di pizza la riserva per i momenti di appetito durante le fatiche creative e l'offrì a pier luigi lupo scusate pier giulio lupo il bestione lo fece sparire nelle fauci in due secondi poi pier giulio mi espose il motivo della visita caro signor ottone il mio dramma sta andando avanti da molto tempo sono perseguitato dal ruolo di cattivo che mi fanno interpretare nelle fiabe tutti mi odiano tutti hanno paura di me le mamme dicono ai bambini di non allontanarsi da casa perché il lupo può rapirli e divorarli sono tutte calugne glielo assicuro io vorrei riuscire a farmi degli amici vorrei frequentare qualcuno invece mi trovo sempre da solo perché appena mi vedono cominciano a urlare al lupo al lupo e scappano come lepri disse tutto abbattuto poi mi guardò fisso negli occhi punto a un dito grosso come una salsiccia su di me e agitandolo esclamò in tono di accusa la colpa è degli autori di fiabe favole che hanno scritto tutte quelle bugie su di me ora io le chiedo di inventare una storia in cui finalmente si scopra la mia vera natura generosa e disinteressata ero spaventato e lo congedai sussurrando con un filo di voce va bene signor lupo mi dia un po di tempo per pensare le prometto che scriverò per lei lasci pure qui i suoi libri perché li posso esaminare con attenzione cercherò di contrastare punto per punto ogni bugia che è stata raccontata in queste storie per giulio si mostrò soddisfatto si alzò di scatto mi prelevò dalla sedia e mi racciò con tale riconoscente trasporto che quando fu uscito dovetti massaggiare a lungo le costole doloranti presi allora un pezzo di pizza ai funghi e mangiandola con appetito mi misi a leggere le storie che aveva lasciato il povero lupo non aveva torto nella fiaba i tre porcellini lo scottavano con l'acqua bollente in capucetto rosso era un cattivaccio che voleva mangiare una bambina e la nonna e finiva ucciso e squartato da un cacciatore una cosa ancora più tremenda gli capitava nella fiaba il lupo e i sette capretti gli aprivano la pancia e al posto dei capretti che si era pappato interi mamma capra gli metteva sette grossi sassi poi lo ricuciva come se niente fosse e il lupo era condannato a un perenne peso nello stomaco nella favola il lupo e l'agnello era il malvagio che divorava il timido agnellino dopo averlo ingannato cominciavo a comprendere il motivo della depressione del lupo delle fiabe non c'era neppure una storia in cui fosse il buono o l'eroe provai per lui un sincero dispiacere pensai a lungo a come fare per riabilitarlo poi andai in cucina presi dalla dispensa una pizza le cipolle la misi nel forno istantaneo e mentre la ritiravo fumante profumata mi venne l'idea che avrebbe cambiato la mia carriera di scrittore rimasi quasi stordito per un attimo poi mi sedetti al computer anche gli scrittori di fiabe si sono modernizzati ordinai per telefono dieci pizze al mio pezzaiolo di fiducia e mi misi a scrivere e a stampare forsennatamente lavorai per quattro giorni e quattro notti interrompendomi solo per mangiare e per ordinare pizze il mio pizzaiolo il padrone della pizzeria fantasia era un bravo uomo lavorava quasi solo per me pizza alla marinara ai funghi alla cipolla al peperoncino ai quattro formaggi al prosciutto al salamino napoletano grazie mi disse il pizzaiolo quando pagai se non ci fosse lei a quest'ora sarei disoccupato tutti ormai vogliono mangiare soltanto panini imbottiti con quelle polpette di carne bruciacchiata che chiamano hamburger per non parlare degli hot dog quei salsicciotti che colano grasso e salse piccanti che ci vuol fare sospirò rassegnato è la moda lanciata dalla tv ancora grazie ci vediamo alla prossima consegna tornai alla scrivania chiedendomi che cosa ci trovassero i bambini e i ragazzi in quei cibi la pizza è così buona quando terminai la mia opera la intitolai le straordinarie avventure di super lupo allora se siete d'accordo io vi racconterei la prima straordinaria avventura di super lupo si intitola super lupo e cappuccetto rosso avete piacere di ascoltarla? tanto quanto voi mi rispondete io l'ho già iniziata sono quelle domande retoriche no? che si fanno chi mi saluta? ciao francesco buongiorno renato ciao wow questo è un amico di mio papà di qualche anno fa siiii mi è arrivato un primo si gigante quindi lo prendo lo prendo e comincio questa meravigliosa avventura super lupo e cappuccetto rosso c'era una volta in una foresta una famiglia di lupi buoni il padre faceva il taglialegna la madre era una brava sarta e basta essi avevano un figlio di nome pier giulio che frequentava la scuola del villaggio pier giulio non aveva amici tutti lo evitavano dicendo che era brutto sporco e povero soltanto una compagna di classe aveva simpatia per lui la piccola martina anche lei era sempre lasciata sora dei compagni non giocate con quella lì dicevano è sempre vestita con quel vecchio cappuccio rosso non si veste mai coi jeans non ha giocattoli come i nostri non ha nemmeno il telefonino la povera martina non sapeva rispondere ai compagni nemmeno quando la chiamavano cappuccetto rosso per prenderla in giro rifiutati e soli pier giulio e martina stavano spesso insieme andavano a fare lunghe passeggiate nel bosco a osservare piante animali andavano qualche volta a pescare a ruscello insieme dimenticavano la cattiveria dei compagni un giorno pier giulio andò da martina per invitarla ad andare a esplorare lo stagno delle rane la trovò seduta sui gradini di casa in lacrime cosa ci è successo? le chiese la mamma mi vuole mandare dalla nonna a portarle da mangiare perché è ammalata ma per farlo devo attraversare il villaggio e nella piazza ci sono sempre Luca Sara e Cristian che mi trattano male ho paura Pier giulio vieni con me va bene vengo disse il piccolo lupo deciso a difendere l'amica e le disse che cosa porti alla nonna? lo sciroppo per la tosse delle mele e una specialità di mia mamma la pizza la pizza ripete giulio perplesso io non l'ho mai mangiata devi assaggiarne un pezzetto così il lupo assaggiò un pezzo della pizza capricciosa preparata dalla mamma di Martina che meraviglia era buonissima non solo gli piacque molto ma si sentì subito forte e pieno di coraggio Martina si accorse che era accaduto qualcosa e lo guardò incuriosita poco dopo si misero in cammino e quando arrivarono in paese passando davanti alla vetrina del negozio del barbiere Pier giulio si osservò attentamente nello specchio non era più lo stesso ma era alto e robusto con le zampe muscolose il pelo lucente gli artigli affilati in poco tempo giunsero nella piazza guarda guarda i due buffoni della classe i due buffoni della classe risero forte Luca, Sara e Cristian ehi capocetto lo sai che il lupo è pericoloso? la mamma non ti ha detto che devi stare attenta? che due stupidi! Pier giulio che di solito sopportava la prepotenza dei compagni di scuola senza ribellarsi si volse minacciosamente verso i bambini emiso un ululato e diede loro uno spintone così forte che i tre caddero a terra come birilli la sorpresa e la reazione in attesa di Pier giulio fecero effetto i tre si rialzarono non si fecero male si misero a correre e voltandosi a turno per controllare di non essere inseguiti scapparono a gambe elevate grazie Pier giulio disse Martina stampandogli un grosso bacio sulla guancia sei stato fantastico veramente super hai ragione forse è merito della pizza della tua mamma mi ha fatto sentire fortissimo anzi un super lupo mi fai riprovare? così dicendo mangiò un boccone di pizza e subito si librò nell'aria con Martina attaccata alla maglietta appesa lui come un palloncino troppo gonfio per fortuna Pier luigi ed aie Pier giulio riuscì ad aggrapparsi al parafulmine del municipio evitando di perdersi nel cielo da quel giorno tutto cambiò Martina e Pier giulio non furono più infastiditi dai compagni di scuola prepotenti la mamma di Capucetto diventò amica della mamma di Pier giulio e le insegnò a preparare la pizza Pier giulio così acquistò tutti i super poteri e diventò super lupo tutte le sere mangiava un pezzo di pizza e si esercitava imparò a volare senza battere la testa sul soffitto della stanza grazie alla pizza vegetariana ad attraversare i muri sotto l'effetto della pizza al peperoncino ad affinare l'odorato con la pizza ai funghi a nuotare sott'acqua come un delfino grazie alla pizza ai quattro formaggi un super lupo allora io spero che vi sia piaciuta la prima puntata ne abbiamo ancora primo episodio in realtà abbiamo ancora mi sembra tre o quattro episodi da leggere fatemi sapere se vi è piaciuta questa sera verrà pubblicata la favola sul profilo di Fiorenza Pistocchi così se vi siete persi qualche parola potete andarla a leggere io adesso prima di salutarvi chiuderei con il mio classico che cosa? il mio classico tributo a Jacopo Perego le favole che fanno crescere anche chi è già cresciuto e allora oggi senza farlo apposta ho scelto una fiaba aspettate che la vado a prendere che para di mangiare in realtà si intitola il fumo e l'arrosto allora siete pronti? una volta alla bancarella del cuoco ambulante si avvicinò un povero mendicante non avendo denaro con sé allungò sopra una teglia di arrosto un pezzetto di pan carré e lo impregnò del fumo appetitoso che ne usciva per soddisfare la grande fame che sentiva se lo mangiò tutto voracemente poi il cuciniere gli disse pagami ciò che hai preso e fallo immediatamente ma io dalla cucina non ho preso altro che fumo rispose il mendicante e tu pagami il fumo tuonò il cuoco con tono arrogante la cosa finì in tribunale e senza alcuna perplessità il giudice sentenziò con immensa professionalità da che il povero mendicante ha goduto il fumo ma non ha toccato l'arrosto prenda una moneta e la batta sul banco seduta a stante il suono della moneta pagherà il cuoco ambulante in cambio del fumo dell'arrosto il cuoco ebbe il tintinio di un nichelino così la gente pote capire chi dei due fosse il vero poverino è bella eh? allora ci vediamo domani però ci vediamo alle 16 perché io alle 17.30 vado a leggere in diretta su Instagram su Mondadori Bookstore Imperia alcuni brani della mia beniamina Sara Rattaro che con la rassegna scrittori in salotto ideata da Nadia Schiavini ogni volta c'è un autore diverso allora ieri ho letto Cristina Rava ieri mi sembro l'altro ieri non ricordo e domani leggerò Sara ma noi ci vediamo qui ve lo scrivo state tranquilli ci vediamo qui alle 16 per una nuova avventura del super lupo e per un paio di fiabe anzi nel suo caso di favole di Jacopo Perego allora io direi che vi ho detto tutto in realtà ho questa sensazione di dimenticare qualche cosa ma l'orario ve l'ho detto la fiaba ve l'ho letta voi siete stati attenti e allora vi saluto vi do un grande bacio tanti saluti da Gino il Topolino il peluche del mio orsetto Gigi e tanti saluti anche dal mio adorato Gigi allora lo vedete sempre così perché si chiama orso calamita vedete? in realtà ha una calamita e di là non ce l'ha perché è vecchio come il cucco e quindi ha perso la calamita voilà quindi quando lo vedete con la calamita bambini non vi spaventate perché mi hanno già detto se è cieco no poverino non è cieco semplicemente ha una calamita sul muso allora mi fa sorridere questa cosa che i personaggi aumentano quando io finisco quindi mi dispiace da morire salutarvi però non posso trattenervi oltre vi do un abbraccio vi do un bacione grande io spero che le mie dirette vi piacciono che possiate condividerle con i vostri bambini e mi auguro che l'incipite di oggi un po' diverso ma doveroso per tutti questi ragazzi a casa che davvero stanno affrontando una cosa grande grande che i loro figli si troveranno nel libro di storia ci pensavo questa mattina ciao e a presto e grazie 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 grazie